Firenze maestra d'arte e di cultura ma anche di artigianato. Tutto il mondo conosce la maestria di uomini e donne che ogni giorno con grande passione svolgono un lavoro antico e inimitabile. Manualità, abilità e pazienza tramandate di padre in figlio che fanno di un lavoro senza tempo una risorsa per il territorio e per chi sa apprezzare la bellezza che è capace di costruire ogni giorno. Tutto questo viene raccontato in un corto d'autore realizzato dalla regista fiorentina Cinzia TH Torrini grazie al sostegno della Camera di Commercio di Firenze. Il momento è particolare, è difficile, non a caso come Camera di Commercio ci stiamo impegnando non solo nell'aver totalmente finanziato questo corto giustamente firmato da una regista importante come la Cinzia TH Torrini ma nell'attivare tutta una serie di attività collaterali, formative possibilmente, che possano mettere in condizioni giovani e meno giovani nel più breve tempo possibile ad apprezzare e amare e a saper lavorare e plasmare la materia. L'idea di un film documentario è nata e si è sviluppata grazie a uno scambio di riflessioni tra la regista fiorentina e un altro innamorato di Firenze, l'artigiano Wonny di Filippo. Un giorno a Parigi, io ho un negozio a Parigi in una galleria e di fronte a me vedo che apre un negozio e che ho scritto cordonier che vuol dire ciabattino. Ma faccio e mi accorgo che il ciabattino è una ragazza di 22 anni, danese, elegantissima, che riparava i tacchi. E hanno detto che questa è l'immagine che bisogna dare ai ragazzi oggi. Quindi bisogna fare qualcosa per gli artigiani che possa trasmettere ai giovani la voglia di lavorare e di parlare con le mani, perché qui oggi tutti parlano con sistemi tecnologici, parlano, parlano, ma in effetti non producono niente. Volevo raccontare in modo positivo, promozionale, un mondo che se non facciamo qualcosa scomparirà, un mondo a cui io tengo moltissimo, che se non facciamo niente un domani perfino non si sarà più capace di restaurare i nostri capolavoro che abbiamo a Firenze. Volevo proprio far vedere le mani, la manualità, la capacità e la passione, l'amore. Presentato a Firenze dalla Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico presso la sede di Fiorgen Onlus, il progetto racconta la passione, il genio e il calore che gli artigiani sanno regalare semplicemente con i loro gesti, mentre creano, plasmano, costruiscono un oggetto. Questo filmato entra in bottega e coglie i segreti, i pennelli del pittore, la sgorbia dell'intarziatore, l'oro, l'argento, questa è una cosa stupenda, è questo che si deve conoscere, i segreti e il modo di costruire queste cose bellissime. Grazie.